Ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video un po' diverso dal solito perchè è registrato con la webcam e brava brava insomma stiamo facendo dei test Però vi dico solo una cosa il video fa tagliare dalle risate quindi guardatelo fino alla fine Soprattutto perchè alla fine c'è una cosa veramente 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 epica quindi guardatelo fino alla fine E soprattutto seguite i like che vi hanno chiesto di mettere perchè sono bravi persone loro Detto questo vi lascio al video e buona visione Buongiorno, io sono Minesi e questo è Aliens World E' vero Ti giuro stavo facendo il labiale E' vero E' stato bellissimo E' stato bellissimo Vai possiamo partire Ok allora abbiamo giusto due botte come potete No la faccia che ho fatto raga bellissima Simon poi voglio vedere come lo synchi quell'audio Oh cazzo no di giro però l'ho fatto solo di una fine Quando hai fatto quella parte e oggi siamo su Aliens World Poi con una faccia bellissima Ok macco Mi hai sparato una granata Ok c'era che dovremmo fare una campagna 1 più difficile 2 con meno botte Ok signori bentornati Abbiamo cambiato campagna come potete benissimo osservare da nazione E siamo in modalità Non riuscire Missione mai fatta? Ok Io non me la vorrei tirare ma c'è ma fa trasmesso di lagare Eh sto chiedendo fuori il cell botte Fa smesso di lagare però vabbè Perchè? No ma è troppo danneggiata Bellissimo Cosa? Cosa? Come sono caduto in battaglia? Ma so bad Bad proprio No non mi dite che mi ha ucciso la porta raga Peggio di così non sei prossimo Ci ha preso il pieno Sì però se non becco il buco della porta non riesco a entrare Eh sono un beccato C'è problema Adio mi lascio indietro Adio Oh 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 Apri Apri Veste mia Apri Cazzo Oh Simone levati Che c'è sta qua dietro? Saneviccione Ti piacciono le piccione? Ok Andiamo Abbiamo finito Wow È troppo difficile Troppo difficile Quanto friendly fire c'ha contro Simone in particolare C'è zero friendly fire C'è c'è più friendly fire Simone di me E gli ho sparato contro Adesso metto un botte di riserva decente così almeno Quando Simone muore Esatto Sempre No quando qualcuno muore No quando Simone muore Perché tanto si sa che muoio io Ma l'abbiamo già detto che la visualessa sia sul mio canale Sì sul tuo Non mi ricordo Sento Sì sono entrato solo per uccidere quello Cioè sei venuto fino all'altro tanto per stirarmi quello Sì Non farei un po' schifo No Ma perché mi uccide quello in fondo e non mi uccide quello Ma 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 vorrei di niente ma io ti stavo curando pazienza poi ero in difficoltà e tu te ne sei andato ovvio è così che si tratta dai medici mi stai provocando? vieni qua ma il buono è finito come quel ragazzino prima vieni adesso sei morto me meee grazie simone prego quanto lo facessi esplodere? ah quindi già lo sapevi? eh devo voler far esplodere si oh potkan seria ragazzi c'è una quantità di larveri parassiti che mi serve la motosega chi è che ha voluto rinchiudere? è un genio questo vuole la portare sulla terra? ma si può sparare? nooo l'ho fatto esplodere non ci posso vedere l'hai faggato no ah devi comunque aprirlo a che servono le munizioni? a simone che peccato giuro che me ne prega tanto guarda come si guarda come perdiamo eh 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 marco leva te è che non te conosco vai 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 io sto saltellando in giro per cercare un posticino dove mettermi l'emmo non ho più bisogno di cercare un posticino dove mettermi l'emmo marco cosi? marco ucciso young simone sali simone sali oh oh oddio raga sono decollato no sono ratterrato dentro la lucella l'hai visto? l'hai visto? ho visto simone decollare simone l'hai fattito in anticipo vai ma vai ma vai per la night meets me vado oddio simone sei in anticipo dobbiamo andare tutti insieme se vada più vabbè io volevo controllare che non ci fossero pericoli per poi farvi andare a voi eh sì l'hai fattuta come minimo si vede per la spazio morite dovete morire ha mi mancava mi giuro che mi mancava il biomasse no a me per niente ah quindi hai fatto bene questa non sappiamo ehm si giuro che io ci voglio andare di qua eh e soprattutto nel fondo simone è stracato no non sono stato io mi hai sparato in testa all'ascensore all'ascensore ciao sarch oh no scendi cadi ok cazzo vai art che cos'è? la tiro ah ok ora so cos'è vai andiamo ma se mi chiedo una cosa adesso simone no no non li schiacciare me li uccide no io c'ho un dubbio perché secondo me si ehi ehi marco sono così forti che blocca ero l'attenzione oh no no il problema è che sarci è sotto oh eh è uscito 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 stai inferno ecco adesso io sta con me l'ascensore come sei nell'ascensore no sarci vieni fuori 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 ma io mi baggo quando sto su questo ascensore ho visto mentre ci sei entrato no aspetta che ti ah ah chi è che muore sotto la porta ora ma lo sai che bello io sono andato lì per figa di disaltarlo eeeh apri eeeh apri nooo oddio l'ho visto un malissimo l'ho visto dopo se il video becca 40 like mi butto marco si butterà da un ascensore a me non è un viaggio da questo ascensore voglio vedere no no se il video becca 40 like facciamo tutti quanti una serie su borderlands 2 fuori è stato scientificamente dimostrato che marco sta morendo beheh ahahah 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 perché infatti io sono vivo ah 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 sei morto ce la può fare ce la può fare raga raga spolliciate ora così meno ci date potereee sono decollato sono decollato cosa stavo dicendo? un nuovo video finisce i nostri eroi sono sopravvissuti presso a poco in realtà uno è stirato anche due anche tre sono tutti morti solo il più bello è sopravvissuto il cavaliere dell'armatura sgargiante io che non è simone che mi sta facendo il voice over simone ok 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 non scordatevi il mio canale se volete questa bellissima ovviamente i canali sotto le descrizioni proverò anche a mettere proverò anche a mettere il canale di Marco sempre che mi carichi qualcosa non scordatevi i 40 like sul video eh i 40 like raga non vi ci vuole niente Blizzard risolve ed è stato dimostrato che cliccare il like aumenta la lunghezza del film questo è vero quindi cliccate la... aspetta però sei una femmina che guarda questa cosa? aumenta la lunghezza oh no 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 yeah oh no oh no swurro oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah yes oh no